in questo video vi mostro come si seminano 35.000 piante a ettaro con una trapiantatrice della società agro planter non sto qua a dirvi altro perché poi ci sarà anche l'articolo della prova su macchine agricole domani e che però dovrete aspettare perché non so quando uscirà buona visione alla prossima ciao alberto stiamo lavorando sono arrivato tutto perfetto ciao 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 ciao